Io non ho mai avuto problemi nella mia vita a mettere la faccia sulle cose che faccio. Se volete dare la responsabilità a me, datela, ma io chiedo un atto di responsabilità di tutte le forze politiche, dalla mia forza politica all'ultima forza politica di opposizione, perché questa avvertenza la risolviamo col sistema Paese affinché possiamo riuscire, se vogliamo riuscire, a garantire la continuità produttiva di quello stabilimento. La risposta deve essere del sistema Paese, di quest'Aula del Parlamento, dell'altra Aula del Parlamento, delle forze sociali, delle forze sindacali. C'è necessità di un atto di grande responsabilità di tutte le forze politiche. La politica non si deve fare in questo caso con dei tweet, si fa con serietà. Noi ci mettiamo la faccia e vogliamo essere seri e credibili e dire a quella azienda, a quella società, che non può pensare di aver sottoscritto un accordo e di disattenderlo dopo dieci mesi. I commissari straordinari nell'anno precedente hanno ottenuto risultati economici migliori di Arcelor Mittal. Questa è la verità. Quell'impresa evidentemente non aveva intenzione di fare produzione in quello stabilimento. Colleghi, 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 facciamo concludere. Io credo che lo dobbiamo al nostro Paese perché in altri Paesi, quando si affrontano crisi che mettono a serie alle pentaglie l'economia di un Paese intero, di uno Stato intero, si risponde in modo unito e unitario, non accusandosi ripetutamente e vicendevolmente. Grazie.